Il Sistema La Terza per la didattica 2.0 Qualità e innovazione per la scuola digitale La Terza presenta il suo nuovo sistema multimediale interattivo che trasmette e collega in rete conoscenze, informazioni, immagini, materiali didattici per studenti e insegnanti Il sito www.laterzallibro-internet.it offre molteplici contenuti integrativi che si aggiungono al libro di testo Materiali per lo studio e la LIM, e-book ed esercizi interattivi, strumenti multimediali I manuali La Terza sono disponibili per le classi 2.0, anche in versione digitale e interattiva, sul sito www.laterza.it e sono usufruibili su molteplici dispositivi come PC, Mac, tablet e smartphone di ultima generazione Il sistema La Terza 2.0 favorisce anche la formazione avanzata dei docenti che potranno partecipare a incontri e corsi di aggiornamento e formazione digitale in modalità e-learning L'elemento principale di innovazione del sistema è costituito dall'Aula Digitale una piattaforma di apprendimento dotata di funzioni multimediali e interattive per sviluppare e supportare l'attività didattica in classe e a casa Con i manuali La Terza, ogni docente avrà accesso all'Aula Digitale una piattaforma di apprendimento LMS dotata di dinamiche e funzionalità 2.0 caricamento, gestione e archivio di file di qualunque formato condivisione immediata di tutti i materiali con il gruppo classe creazione e gestione di test interattivi tracciamento e memorizzazione delle interazioni degli studenti servizi di messaggistica istantanea corsi di formazione digitale in modalità e-learning La Terza per la Nuova Scuola 2.0 la didattica digitale multidisciplinare in rete e multi-device La Terza per la Nuova Scuola 2.0